Buongiorno a tutti dalla pescheria del centro, oggi inauguriamo il nostro presepe a tema marinaro. È stato realizzato da Luciano Paolini in arte il cozzaro nero. Buongiorno. Dicci zio, che ti ha ispirato? Una strada a San Mettio di una volta, tutti in cartone, lavorato solo con le forbiche e la colla. Da poco andiamo a vedere e dopo spiegherò. Inoltre sarà possibile effettuare delle donazioni che poi verranno devolute alla Onlus Gio X, che si occupa della ricerca del cancro nei bambini, negli ospedali pediatrici. Ciao a tutti, vi aspettiamo! Buongiorno a tutti.